Allora Dario ti chiedo cosa si sappia della dottrina israeliana in materia, se l'arma atomica sia solo ed esclusivamente deterrenza per lo Stato ebraico, se invece sia strattamente possibile un first strike, come si dice, un nemico di sempre, insomma, di Israele, ovvero la Repubblica Islamica, l'Iran. Come sappiamo bene, Israele ufficialmente non ha mai dichiarato di possedere le armi nucleari che ha da molti decenni anche capacità di risposta nucleare, non abbiamo parlato anche qui, quindi ha ordini nucleari montati sui sottomarini al Mediterraneo e orientale, quindi in caso anche di attacco nucleare avrebbe capacità di risposta nucleare, non sarebbe obliterato dalla carta, come so come capiterebbe alla Corea del Nord per intenderci, difficile anche stabilire quante testate nucleari abbia Israele con certezza, tuttavia c'è una forma di dottrina che è la cosiddetta opzione Samson, che è l'opzione che più volte i vari, israeliani non hanno mai negato, cioè Israele risponderebbe ovviamente non solo ad un attacco non convenzionale, questo parrebbe scontato, ma anche ad un attacco massiccio sul suo territorio che mettesse in difficoltà il Paese creando talmente documento da condurlo quasi alla resa. Allora in quel caso, con un discrimine come vedete molto lasco, che lascia come naturale in caso di dottrina di questo tipo, ampio margine di manovra alle cancellerie, in quel caso Israele utilizzerebbe l'arma nucleare che ufficialmente neppure possiede, che la posso utilizzare, quindi faccio riferimento a quanto dicevi tu, anche come colpo preventivo, come first strike per dirla all'americana, nei confronti di un nemico, insomma anche questo non abbiamo nessuna contezza né certezza, sebbene non sia stato smentito da nessuno, immaginiamo comunque che sia altamente improbabile. Tuttavia, lo dicevi tu all'inizio, questa guerra, cioè quella al Medio Oriente, la nuova fase dal 7 ottobre in poi, per la prima volta nella storia ha condotto un ministro, senza portavoglio, che era il ministro dell'eredità culturale, Eliyahu, del governo israeliano, a dire attenzione potremmo lanciare una bomba atomica su Gaza, così peraltro si tratta del nipote, di quello che è stato il rabbino capo della comunità sefardita in Israele, tra l'altro, e di origini irachene, e noi spesso abbiamo scritto su dove ne ha parlato qui insieme a te, insieme a voi, delle divisioni proprio di provenienza culturali, in questa fase in Israele, il fatto che sia un ebreo orientale d'origine, quindi iracheno, una volta si diceva sefardita, adesso lo chiamano semplicemente orientale, laggiù, segnala un ulteriore atteggiamento di diversità anche nel pronunciamento relativo all'arma atomica, perché poi Netanyahu, che per carità fa il pesce in barile e tutti i ruoli in commedia, un grande furbacchione, lo ha immediatamente sospeso, però il messaggio era arrivato forte e chiaro, abbiamo la bomba atomica, non lo neghiamo nemmeno più, ammesso l'avessimo fatto sul serio negli ultimi anni e potremmo anche usarlo.